Presidente Seracchiani, non solo bicicletta, non solo sport, non solo turismo. Beh, intanto quello che emerge è sicuramente un evento sportivo come il mettere insieme il Monte Zoncolane e il Monte Fuji che possono sembrare così lontani e in realtà sono estremamente vicini quando appunto si pensa alla bicicletta e a quanto questo sport sia seguito. Lo sport però sarà il traino anche per altre iniziative importanti che riguarderanno il porto di Trieste, che riguarderanno magari lo scambio delle buone prassi tra i nostri due paesi e tra le nostre due regioni per quanto riguarda il tema dei terremoti e della fragilità del territorio. In questo ahimè siamo piuttosto simili. E nel campo delle politiche dei trasporti, sia aeree sia marittime, cosa si può dire a questo livello, a questo punto? Beh, intanto abbiamo ragionato sulle nostre similitudini. Abbiamo tutte e due un aeroporto, abbiamo tutte e due la possibilità di avere un aeroporto collegato. Loro stanno lavorando sull'intermodalità anche in vista delle prossime Olimpiadi e noi, come è noto, abbiamo ormai il polo intermodale che è di lì ad iniziare per quanto riguarda i lavori. Per cui possiamo ragionare anche sulla promozione territoriale. Lo abbiamo fatto con incontri sul nostro territorio per quanto riguarda i nostri grandi prodotti di qualità e potremo continuare a farlo anche sulla base dell'accordo che oggi abbiamo sottoscritto. Presidente Bolzonello, Fuji, Zoncolan, un binomio che adesso parte e si estende su altri campi, su altri settori? Bene, ci abbiamo scommesso molto. Siamo convinti che questo sia una partnership importante fra due regioni che hanno più o meno le stesse caratteristiche, stesse dimensioni per quanto riguarda sia la superficie che gli abitanti, con importanti settori comuni dal punto di vista economico. e quindi al di là del dato sportivo e quindi anche turistico, ci sono alcune iniziative che iniziano a prendere forma che riguardano l'enogastronomia, riguardano tutta la parte legata ai nostri prodotti, soprattutto lattiero caseari e vitivinicoli e riteniamo che nell'arco di un anno si possa arrivare ad avere delle risposte importanti anche per gli operatori del Friuli Venezia Giulia.